Ben trovati amici, l'appuntamento con l'informazione di Terriblea Canale 89. Apriamo parlando, ma per un attimo, delle guerre, perché le guerre occupano le prime pagine dei nostri giornali online, delle televisioni, di tutti, perché scherza scherza si va sempre a fare un passo più in là. Ora l'Ucraina sta attaccando la Russia, in qualche modo dà fastidio, la Russia non può permettere, la grande madre Russia non può permettere che gli ucraini vadano a disturbare all'interno della Russia. L'altra cosa è l'Israele, perché, qual è il problema? Che Netanyahu, che ha una testa, poi dice, ma perché ce l'hanno tutti con loro? Netanyahu, che ha una testa, ha deciso che dovrà rispondere all'Iran e ha già fatto sapere che attaccherà strutture militari dell'Iran. Ora io dico, ma ne è meglio che si fermano, e basta, quelli hanno mandato i missili, per ora c'è un attimo di caso. No, deve andare ad attaccare, che loro poi risponderanno, e anche lì si rischia sempre di debordare, di andare oltre. Il fatto che andare oltre non è allargare il conflitto andando, che so, dal Libano alla Siria, che già chi ne hanno tanta racina appesa, o andare verso l'Egitto. Il problema che allargare il conflitto è che qualcuno gli viene in testa di buttare una bombetta un po' più potente. Questo è molto rischioso. Dice, ma che senso ha? Tu butti una bomba atomica, poi te ne buttano un'altra, ma che senso ha? E proprio quello è il problema, che da lì poi... Vabbè. Questa è la guerra, ma noi siamo piccole realtà, ci possiamo occupare delle nostre guerre. Allora, ne è scoppiata una piccola piccola, che però è simpatica. Parliamo degli alberi di Via Natalelli. Allora vi faccio vedere cos'è Via Natalelli a Ragusa. Dice che lo scorso 7 settembre c'è stato il cedimento naturale di un albero petiglio, che era proprio di fronte al genio civile, perché insomma sono alberi molto vecchi, e quindi si è deciso, l'ufficio verde pubblico ha ritenuto opportuno richiedere la consulenza di un agronomo per valutare la condizione di questi 15 tigli che ci sono nella Via Natalelli. Il risultato è stato che alcuni esemplari di tiglio e un pino hanno esaurito la loro sicurezza. In pratica potrebbero cadere da un momento all'altro a causa di, vedete, si vedono delle immagini, magari mettiamola a Campolaca per far capire, alcuni c'hanno ormai il tronco rovinato. E quindi cosa si è deciso? Si è deciso di procedere al taglio, ecco guardate l'assenza di crescita regnosa sul lato, che hanno visto, insomma praticamente ci sono le cavità, a questo punto si è deciso di tagliare, provvedere anche generalmente a tagliare gli alberi per eliminare il rischio. Ma, dice l'assessore Mario D'Asta, provvederemo subito a fare la ripiantumazione per dare ossigeno a questa via, che perde oggi gran parte del suo verde, ma lo ritroverà il più presto possibile. Quando si deve fare, si deve fare. Cioè non è che uno può dire, l'albero, la stiamo al luogo, poi un po' di vento, un po' di acqua ti casca e casca su una macchina, su una persona. Quindi quello che sta facendo l'assessore è giusto. Il fatto è che voi dovete sapere che c'è una chat della maggioranza del comune. Cioè loro hanno, come l'abbiamo noi qua in televisione, abbiamo una chat dove ci sentiamo tutti, alle nove viene l'inizio, puoi andare a fare questa ripresa, appuntamento. Tutti quelli che lavorano hanno le chat, diciamo, che sono tutti collegati. Ora sappiamo che c'è una chat della maggioranza del comune, dove però non risparmiano le critiche. E quindi c'è stata una pesante critica da parte di qualcuno della maggioranza, non mi chiedete chi è stato, io lo so, ma non lo posso dire. Ha criticato fortemente che questa cosa è stata saputa oggi, no? Non un mese fa quando è accaduto. E allora si sono lamentati che modo di fare, tagliare gli alberi, ma perché non ce l'hanno detto prima. E quindi, come sempre accade nelle chat, perché le chat sono dannose, perché permettono di rispondere a stupidaggini, con stupidaggini, e poi si monta il tutto fino ad arrivare a una specie di deflagrazione. Allora, c'è stata questa chat, in questa chat c'è stata molta confusione con accuse da una parte e dall'altra, e questo non è bello, ma sta anche a dimostrare che c'è molta tensione nella maggioranza del comune di Ragusa. Che colpa ne ha Mario D'Asta se gli alberi sono vecchi e possono cadere? Però alla fine la colpa ce la danno a Mario D'Asta, che in qualche modo, o l'ha detto, o non l'ha detto, o comunque farà tagliare gli alberi. Cosa vuol dire? Vogliono fare fuori l'assessore? Fuori, politicamente parlando, non vi pensate. Anche questa può essere un'ipotesi. Di conseguenza, ecco, noi vi riferiamo di questo momento caldo all'interno del chat della maggioranza. Ma abbiamoci che cosa ve ne frega? Quelle sono chat della maggioranza. No, perché chiaramente la maggioranza è un'entità politica che dovrebbe poi, dovrebbe in qualche modo essere a fianco, o meglio, dovrebbe affiancare il sindaco nelle grandi scelte, però a quanto pare non è così. Allora, questa è la notizia di apertura della piccola guerra sugli alberi di Via Natalelle, che comunque sono stati agli anni e che verranno sostituiti. Oggi è stato inaugurato a Rimini il TTG. Il TTG è una manifestazione turistica che prende spunto dal nome di un giornale, allora era il TTG, un giornale per le agenzie di viaggi soprattutto, e che ora è diventato una manifestazione che è diventata ben più importante della BIT di Milano, perché nel TTG si lavora veramente. Alla BIT si fa passerella, a dire la verità, no? Si presentano grandi, si presentano i comuni, le cose, le grandi attività turistiche, ma alla TTG invece ci sono gli operatori che fanno i B2B, si incontrano, hanno un'agenda con gli appuntamenti e quindi nessuno vuole mancare, quelli che effettivamente sono nel mondo del turismo vogliono mancare. Incredibile dictu, quest'anno c'è anche il comune di Ragusa, ma di questo ne parleremo, perché dopo sette anni hanno fatto, come si suol dire, il letargo completo, c'è anche il comune di Ragusa e ne parleremo pronto. Però, che possiamo fare a meno di sentire la simpatica Ministra Sant'Anché, poi Sant'Anché rappresenta in verità tutto quello che è questo Paese, perché se le persone normali avessero avviso di garanzia e tutto quello che noi sappiamo, sarebbero già nascosti sotto il letto. Invece il Ministro se ne frega altamente, gira, parla di turismo senza preoccuparsi. Allora, sentiamo cosa dice la Ministra Sant'Anché su questa manifestazione. L'attesa è finita, a Rimini è partita ufficialmente la 61esima edizione del TTG, la fiera internazionale dedicata al turismo. Saranno tre giorni ricchi di confronti, idee e progetti per una nuova industria basata sulla verità di fatto. È proprio nel segno della verità il claim di questa edizione che vede il mondo del turismo unito per progettare il futuro. Il tema Veritas guida infatti la manifestazione che mette al centro l'ospite con la sua richiesta di autenticità e l'idea di un processo creativo. Come rimarcato anche nel corso della cerimonia di inaugurazione, ma che si cale in realtà nella realtà di tutte le aziende sempre più interessate a lavorare su dati di tendenza certi, su analisi di mercato, su racconti veritieri dei territori per andare appunto incontro alla consapevolezza del viaggiatore. È fondamentale il sud e sono felice che moltissime risorse del PNRR, soprattutto quelle a fondo perduto, vadano al sud perché è essenziale per la ricchezza, per la crescita della nostra nazione. Quindi io sono super favorevole di aiutare a sviluppare tutte quelle strategie che possono migliorare il turismo del sud Italia che ha già fatto passi da gigante. Le fiere sono importanti anche perché le fiere aiutano il turismo, destagionalizzano e portano tante persone sul territorio. La vita si misura in momenti, momenti dove l'anima incontra i sensi e l'istinto si risveglia. Tu, la polvere e le emozioni di tracciare la tua strada, e poi un'altra, e un'altra ancora. Non ci sono limiti e la tua storia scriverà ora. Suizioni di tracciare la tua strada, e poi un'altra, 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 e poi un'altra. Avventura, libertà. Suzuki 4x4 fuori dai luoghi comuni. Suzuki. E allora avete sentito il ministro Santanchè, dopo anni di letargo assoluto, nonostante i consulenti e tutto, il comune di Ragusa, la città di Ragusa, ha deciso di partecipare al TTG. E avrà comprato uno stand, penso io, perché lì poi è una cosa da comprendere. La regione siciliana ha fatto un bando per gli operatori che sono però operatori turistici, quindi quelli che hanno il codice Ateco 79, che è quello dei tour operator delle agenzie di viaggi. Poi non lo so, città di Sierro tutti non hanno fatto una selezione, la regione siciliana ha sempre questo difetto. Arriva per ultimo con una organizzazione molto confusa e non permette agli operatori di organizzarsi nel modo giusto. Però il comune di Ragusa, dopo che gli abbiamo rotto tanto le scatole, non si fa promozione, ha deciso di partecipare al TTG. Ha fatto tutto in segreto, a meno del fatto che ha chiesto agli operatori di pagare. Cioè, voglio dire, cazzarola, guadagni centinaia di migliaia di euro con la tassa di soggiorno, che in verità è una specie di prelievo forzoso delle tasche dei turisti, e che dovrebbe essere utilizzato per favorire coloro che vanno a fare promozione. Quindi, dacci i soldi, a questi no, se vuoi partecipare devi pagare. Ah, ma io do un contributo, non funziona così, perché la tassa di soggiorno dovrebbe in qualche modo aiutare agli operatori che intendono essere presenti a questa fiera dove si vendono i posti letto, i pacchetti, non dove si va a passerella. Perché questo non è un posto per fare passerella. Però, il Comune di Regusa, siccome c'è tutti questi esperti, ha realizzato un video. Un video che, che vi devo dire, è un video abbastanza scontato. Lo vediamo un attimo, che scorre ora alle nostre spalle. È un video che fa vedere, con ormai il taglio di sempre, stacchi veloci, ta ta ta, fa vedere le cose di Ragusa. Castello, mare, cose da mangiare. Hanno chiesto a Ciccio Sultano di essere presente, mi pare anche a Damiano Caruso. Insomma, hanno messo un po' tutto di questa città, ma ci mancherebbe altro. Se non lo fanno, cosa volete portare in una fiera? Io però mi chiedo, nella grande trasparenza di questo Comune, che si vanta di essere il massimo della trasparenza, perché abbiamo un difensore dell'etica, che è il sindaco. Ma hanno detto a qualcuno, vorremmo fare un video, ci dite se lo volete fare. Come al solito, al Comune di Ragusa, prima si fanno le cose. Dice, ma chi l'ha fatto questo? È bello, non me ne frega niente, è bello. Ma non sarebbe stato interessante dire quale attività della nostra città è interessata a realizzare un video per andare nelle fiere? Abbiamo a disposizione 100 euro e ci serve dire la durata di 35, 80, 40 secondi. Chi lo vuole fare? Come al solito, il sindaco ha sempre il suo cerchio magico. Dice, ah ma noi abbiamo fatto una cosa, non ci risulta, può essere, se l'hanno fatta chiediamo scusa. Ma sono convinto che uno dei tanti consulenti che girano intorno al sindaco, come ha fatto gli chef, ha già portato, bello e pronto, impacchettato il servizio. Ma poi dice, ma li pagate questi? E certo che li paghiamo, e che vuoi che lo fanno gratis? Ma se li paghiamo, non so se con i soldi era da stesso giorno, non sarebbe giusto dire a più persone, professionisti di questo settore, in questa terra, in questa Ragusa, che davvero la provincia, anzi la città, babba, perché ormai, visto come vanno le cose, non sarebbe stato bello dire chi è che lo vuole fare? Perché se no ci metto il mio amico che ha cerugli i soldi. Non è andata così. L'altra cosa, al TTG, ci è andato il comune di Trapani con l'aeroporto, e certo che ci poteva andare all'aeroporto di Comiso. Una volta ci andavamo, ma era l'aeroporto di Comiso a morire alle risate. Che cosa devono andare? Ci sono andati e addirittura hanno trovato una compagnia, la Fly & Go, che ha deciso di fare i collegamenti da Trapani a Verona, mi pare. Quindi chi è andato al TTG per Trapani ha ottenuto un buon risultato. Cosa è successo a Comiso? Niente. L'unica cosa che vi possiamo dire è che il famoso Comitato ha deciso di organizzare una manifestazione di protesta per giorno 16 di novembre. C'è già anche la locandina, non so se la regia ce la fa vedere. Perché? Eccola qua. Perché? Intanto voi capite che per fare una manifestazione del genere bisogna andare in questura, e sono andati in questura, hanno chiesto l'autorizzazione, quindi dalle 9 alle 13 del 16 di novembre ci sarà questa manifestazione di protesta con Sittin e tutto quello che ne consegue all'aeroporto di Comiso. Ora io dico, ma non si vergogna il Presidente della Regione a sentire che quello va lì a fare il nuovo volo, Catania, 100 mila voli, Riggio non te ne andare perché ci devi portare alla privatizzazione. E Comiso piange miseria e addirittura fa una manifestazione di protesta perché non c'è, poi dice, due aerei dell'Aeritalia, pare che sia uno solo dell'Aeritalia che arriverà il 27-28 di ottobre, già qualcuno dice è un rudere che viene dall'Air Serbia. Io dico che tutti gli aerei se sono fatti con la manutenzione giusta, sono a posto, non possiamo dire di quale, basta che hanno la manutenzione fatta come si deve e vorranno per 25 anni senza problemi. Allora dico, ma non si vergogna Schifani, il Presidente della Regione, a parlare di aeroporti privatizzato, un miliardo uno, un miliardo l'altro, allora la minima cosa che dovrebbe fare oggi Schifani, se lo conoscete, diteglielo, è di prendere 3 milioni da qualche parte e dire alla città di Comiso, non a Catania, alla SAC, che poi magari giocano in un altro modo per spenderli, a Catania e dire, gli diamo un po' di soldi a qualche compagnia a fare qualche volo in più, così questi del Comitato non ci rompono più le scatole. Io penso che sarebbe il minimo. Ditelo a Schifani, che è la sindachessa, che è amica di Schifani, per ovvi motivi, dica, ma non ci vergogniamo a fare queste passerelle vergognose in cui venite a dire, anche in Trieri non mi è piaciuto, è andato lì a fare il lecchino con Torrisi, non mi è piaciuto più, quindi per me sono quelli che sono. A questo punto io dico che il Comitato sta lavorando molto bene, nel senso che almeno ci rompa le scatole, poi vediamo che succede. Oggi è mercoledì e tocca a Peppe Lizio, il venerdì tocca a Cesare Prucchino, il mercoledì tocca a Peppe Lizio, aspettiamo che torni Turi con la sua appuntamento con senti chi parla e però a questo punto sentiamo cosa ci dice Peppe Lizio. La domanda è questa, ma le tasse aumentano o no? Guardate è facile dire non aumentano perché di vista non si vedono, ma scavando, scavando, sentiamo Peppe Lizio. Sicuramente la politica locale dà molti spunti, soprattutto basta di pensare a quello che è accaduto lunedì in Consiglio Comunale, ma questa sera lasciamo stare un po' tutto quello che è questa composita variegata e per certi versi sgangherata ormai maggioranza del sindaco Cassì, ne parleremo abbondantemente poi durante la rubrica Malcomune venerdì. Perché questa sera invece focalizziamo la nostra attenzione su quello che è la situazione a livello nazionale, perché il governo è alle prese con una brutta gatta a pelare che è quella della legge di bilancio, la vecchia manovra finanziaria. E le anticipazioni che si leggono sui giornali e che ha anche dato il ministro Giorgetti hanno messo in forte fribrillazione la maggioranza, perché si parla di inserire nuove tasse e questo è un elemento particolarmente ostico per un governo di centro-destra. La situazione è talmente delicata che proprio oggi pomeriggio la Premier Meloni è dovuta intervenire con un piccolo video di 45 secondi su Instagram, dove appunto ricaccia indietro l'ipotesi di inserire nuove tasse. Io prego la regia di mandare proprio questo contributo video della Premier Meloni. Tu quell'Ego in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose, secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite IVA. Allora voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini. Nonostante, chiaramente dall'opposizione, alcuni vorrebbero ad esempio l'introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno, che è lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani, senza chiedere loro nuovi sacrifici. Avete sentito che ovviamente la Premier rivendica quello che è un po' le linee guida di un governo di centro-destra e scarica l'aumento delle tasse sui governi precedenti, i governi di sinistra. Però bisogna dire una verità, che queste sono belle parole certamente, ma la realtà è un po' più dura e un po' più cruda. Perché quest'anno è una manovra che certamente non è di lacrime e sangue, però poco ci manca. in quanto soprattutto deriva dal fatto che, vi ricordate il patto di stabilità che è stato siglato dai 27 Paesi dell'Unione ad aprile di quest'anno. Dopo gli anni di pandemia in cui il patto di stabilità era stato sospeso, proprio dopo un lungo lavorio tra tutti i 27 Paesi, si è arrivati a questo nuovo patto di stabilità che prevede che per i Paesi come il nostro, dove il debito pubblico supera del 90% il prodotto interno lordo, debbono ridurre di un punto percentuale per X anni finché non si rientra nei parametri. Per quanto riguarda noi significa che ogni anno dobbiamo almeno risparmiare e tagliare tra i 14 e i 15 miliardi. E quindi già capite come si parte con un fardello molto importante. Più bisogna reperire le altre risorse, quasi altri 10-15 miliardi, per rifinanziare tutte quelle misure che erano state poi inserite l'anno scorso, quali per esempio l'abbattimento del cuneo fiscale e le nuove aliquete dell'IRPEF che erano state previste per un solo anno. Ma quindi bisogna ora rifinanziare tutto e significa quasi 9 miliardi di euro. Ecco che quindi il lavoro che sta sfogendo il ministro Giorgetti è un lavoro molto ma molto complicato perché appunto quando si è già per esempio riferito ai singoli ministeri dicendo bisogna effettuare dei tagli, i ministeri hanno risposto in maniera negativa e allora lui ha forse ipotizzato di fare un taglio lineare che è una cosa un po' più brutta che vi possa essere perché è così si fa senza capire dove effettivamente bisogna tagliare e dove no, di circa 3 miliardi. Ma quello che ha fatto andare in fibrillazione la maggioranza in queste ultime ore è quella affermazione proprio di Giorgetti che ha detto che bisogna rivalutare le rendite catastali per quegli immobili che hanno usufruito del super bonus e questa sicuramente è una misura che era già poi prevista guardate nella vecchia manovra finanziaria dell'anno scorso solo che era su base volontaria ma ovviamente nessuno ha adeguato la propria rendita catastale sul fatto che aveva ristrutturato grazie al super bonus e quindi praticamente si va un po' a toccare la casa ed è un elemento che ha fatto mandare su tutte le furie sia Fratelli d'Italia scusate Forza Italia e la Lega pur se Giorgetti appartiene alla Lega. Però quello della rivalutazione delle rendite catastali guardate che è un qualcosa che anzi il ministro sta facendo un'operazione limitata perché l'Europa ci chiede una riformulazione complessiva di quello che sono le rendite catastali per adeguarle ai valori effettivi degli immobili. Con la rivalutazione delle rendite catastali ci sarà un aumento tra il 15 e il 17 per cento delle rendite per gli immobili che hanno usufruito del super bonus e questo si riverbererà poi per quanto riguarda le imposte che si pagheranno tipo l'Imo per le seconde case. Ma il ministro Giorgetti vuole fare anche un'operazione di fare emergere tutte quelle case che non risultano al catasto o che sono accatastrate in maniera diversa. Basti pensare che per esempio vi sono ville sulla strada dell'Appia Antica che sono ville con piscine ma che sono accatastrate come magazzini. Ecco che qui bisognerà capire un po' di fare un'operazione di far emergere tutte queste situazioni. Si è parlato anche tra le possibili entrate che bisogna individuare quello dell'adeguamento delle accise del diesel per pereguarle a quelle della benzina e questo signori è uno dei classici forse anche della prima repubblica. Alla fine quando bisogna fare cassa come si fa? Si aumentano le accise sulla benzina, in questo caso sul gasolio e si trovano delle risorse. Altro grande problema che il ministro Giorgetti ha sulle spalle da risolvere è quello poi delle pensioni perché bisognerà anche rivalutare e aumentare le pensioni e le pensioni minime e bisognerà capire anche come ci ha detto anche Banca Italia nel suo recente studio come la situazione pensionistica comincia ad avere situazioni di crisi nel sistema complessivo e quindi bisognerà capire se si può andare in pensione con la normativa vigente o invece bisognerà trovare delle nuove soluzioni. Quindi una manovra finanziaria, una manovra di legge di bilancio particolarmente complessa che vede il governo al lavoro e dove le opposizioni hanno un facile campo per dire che alla fine anche il governo Meloni aumenterà le tasse e metterà le mani nelle tasche degli italiani. Staremo a vedere come evolve tutta la situazione. Alla prossima puntata. La vostra storia è anche la nostra e quella di chi vuole una spesa conveniente ogni giorno. Per questo alla Cop ci sono i prezzi pop. Arrivano i nuovi buoni da 10 euro con un acquisto di 15 euro. Li prendi questa settimana e li usi la prossima. La Cop sei tu. Banca Agricola Popolare Tiragusa. Una storia orientata al futuro. Bene, grazie allora a Peppe Lizio con la sua rubrica del mercoledì. Perché le tasse, e noi è chiaro le dobbiamo pagare, su questo non ci sono dubbi perché non potremmo certo avere quello che abbiamo ma che vorremmo avere di più se non andiamo a pagare le tasse. Ci sono alcune cose che mi fanno impressione. Una per esempio la salità, ma prima volevo fare un altro accenno che riguarda la viabilità. Il signor Salvini vuole fare il ponte sullo stretto perché lì ci sono 14 miliardi sono immediati e sono tutti in un posto e si possono in qualche modo gestire, non di più. Ma qualcuno ha mai pensato di chiudere l'anello che sarebbe necessario per andare, non vi dico, da Modica a Mazzara del Vallo ma almeno da Gela. Perché queste strade sono davvero, come ho detto ieri, sono davvero borboniche e hanno la grandezza di due macchine, escluso alcuni tratti ammodernati. Come può crescere una regione se per andare da Gela a Mazzara del Vallo una persona normale impiega quattro ore a meno che non si metta a correre come un pazzo e rischia anche la vita come può crescere un territorio del Gela? Come si può continuare per esempio ad attraversare la città di Gela? L'altro ieri, sabato, c'è stato un incidente mortale al centro di Gela è stato investito un 66enne da un altro, da un SUV. È morto, e quindi è un dramma, ma per la circolazione è stato un infarto perché praticamente abbiamo impiegato più di mezz'ora per fare quel pezzetto di strategia. Allora se non si pensano alle circonvallazioni, a Palermo hanno approvato la via della montagna che sarebbe quella che passando sopra Monreale attraversa poi arriva a Terrasini, ecco, se voi vedete, questa parte del sud non c'è una strada come i cristiani, quella rossa è la Catania Palermo che è autostrada con tutti, vedete, ci sono tutti i punti dove si può lavorare insomma a questo punto dico, se non concludiamo questo giro, questo cerchio noi non potremo andare mai avanti e questo è uno. L'altro problema è la sanità. Abbiamo letto un post di qualcuno che sta a Marina di Ragusa e dice come possiamo vivere in una città, perché Marina di Ragusa ormai è una città sicuramente ha più di 5-6 mila abitanti, un paese, diciamo, no? Anche se è un quartiere di Ragusa. E però ci vorrebbero alcuni servizi, per esempio la Guardia America. la Guardia America ci è capitato, dice questo signore, di andare per mia madre che stava male, dopo essere stati 6 o 7 ore abbiamo deciso di andarcene perché non c'era nessuno che potesse aiutarci. La stessa cosa arriva dal comitato civico articolo 32, parla di Modica dove il direttore sanitario qualche giorno fa ci ha spiegato che ci sono 5 medici, che ci sono gli specializzanti, ma siamo sempre lì. Dice abbiamo tolto un medico, ma abbiamo creato un enorme problema. In pratica l'attuale dotazione di personale medico a Modica è di 5 medici, ma che dovrebbe essere almeno 20, non vi dico 20, ma almeno 12 o 13. E così via. A questo punto ci chiediamo, non era forse opportuno rinviare a tempi migliori l'allontanamento del medico dal pronto soccorso perché c'è stato questo allontanamento forzoso. Anche qui siamo in un altro problema. Noi non potremo migliorare, quindi le tasse le dovremmo utilizzare soprattutto per dare ai cittadini la sicurezza, quindi la sicurezza personale e la sicurezza medica. Poi alcuni servizi, lo si è detto, l'acqua e la spazzatura. Ma se uno in città, come vediamo nei filmati di tutte le televisioni, non può uscire perché viene assaltato, violentato, perché con il coltello, perché ti sparano, perché ti fanno, io dico, ma allora, ma che governate a fare se non siete in grado di garantire la sicurezza ai cittadini? E che governiamo a fare se non siete in grado di offrire ai cittadini la tranquillità quando si sentono male? Questa è la verità, quindi fateci pagare le tasse, non c'è dubbio, ma fate le cose. Non fate che tutto è nella burocrazia, perché poi anche i medici perdono tempo a risolvere i problemi burocratici. Velocemente, Consiglio Comunale di La Cusa, velocemente. Allora, la prossima settimana, a quanto ho capito, ci sarà un ordine, un indirizzo, che è firmato dai quattro consiglieri, che l'amico Cesare li chiama, i quattro del Lavemarino, non mi ricordo, ha un nome particolare, sono i quattro Aventiniani. Il bello è che questo ordine del giorno, in pratica, è quello che aveva presentato Peppe Calabrese, che in pratica era quello che aveva presentato Bitetti. Allora, questa è un'esigenza reale, tutti sanno che ci vuole la sicurezza, che ci vuole il controllo, però nessuno ha il coraggio di dire che non è un problema di partito, non è un problema di schieramento politico, non è un problema di niente, l'unica cosa è che bisogna votarlo perché è buono. No, se lo presenta il PD non lo possiamo votare, se invece lo presentiamo noi lo possiamo votare. Mai che si approva una cosa presentata dall'opposizione. Ma questa è la politica. L'etica del sindaco dovrebbe intervenire su questo. Io sono convinto che etica, politica, non sanno cos'è. Detto questo, vi ricordo che fra due giorni c'è l'atteso appuntamento di Marina. Stiamo arrivando, stiamo arrivando, Ciccio Barone fa posto a tutte le parti. Insomma, c'è il Marina Fest e noi abbiamo questa breve intervista che vi ricorda l'appuntamento. Allora, l'associazione è un'associazione culturale con sede legale a Marina di Ragusa, il nome è Brezza Marina. Siamo coinvolti in questa festa per Marina, che si svolge in autunno, appunto per voler continuare la stagione degli eventi a Marina di Ragusa. Siamo coinvolti, dove partecipiamo con l'altra associazione, con l'Onorevole Nure di Pasquale, nell'organizzazione degli eventi che appunto daranno vita a questa festa, che si chiama Marina Fest, che si svolgerà il 12 e 13 ottobre a Marina di Ragusa, con degli eventi importanti come musica dal vivo, degustazioni, Flesmo, abbiamo un grandissimo concerto la domenica alle 18 e 30 presso la Rotonda di Marina di Ragusa. Il coinvolgimento non è solo delle due associazioni, ma prevede anche tutti i ristoratori, tutti i commercianti, la gelateria, ad esempio, prepareranno per la prima volta un gusto di gelato nuovo, che poi proporranno a un prezzo promozionale alle persone che appunto parteciperanno alla nostra manifestazione, così come le paninerie, i ristoranti, le pizzerie di Marina, le enoteche, le vinerie, i pub, un po' tutti faranno o il cocktail nuovo, il tutto che è importante, avrà tutto un riferimento a Marina di Ragusa, quindi con dei nomi o attuali o storici che riguardano appunto Marina di Ragusa. È un atto concreto di amore verso il posto dove abitiamo, sicuramente si arriva un evento, levando la discussione se è giusto, toglierlo oppure no, per quanto riguarda noi organizzatori, è solo un atto di amore concreto che si manifesta per il posto dove abitiamo, comportandoci civilmente, quindi non la sporcando, ma anche organizzando appunto eventi di questo tipo che possono portare nuovi visitatori e nuovi turisti nel nostro posto, nella nostra frazione. L'appuntamento dunque è per 12-13 ottobre, si è parlato tanto anche di questa storia dell'addio all'estate, che era una tradizione. Ora, noi abbiamo sempre criticato il modo di chiamare la manifestazione, perché addio all'estate in un posto come questo, cioè se in questo momento al nord di Luvia ci sono alluvione, diceva che il tempo è quello che è, però da noi sempre all'ottobre è stato bello, la gente è andata al mare, io ve l'ho raccontato l'altro ieri a Favignana, c'erano tante persone che si facevano il bagno, lunedì c'era tanta gente che faceva il bagno, quindi voglio dire, noi abbiamo la fortuna di stare in un posto particolare, allora dire addio all'estate era sbagliato, sarebbe stato forse meglio dire qualcosa tipo allunghiamo l'estate, l'estate autunnale, insomma qualcosa che dice che allunghiamo l'estate, ma così non è stato, quindi Marina Festa. Ora vi faccio vedere un manifesto che vedrete in giro in città, vi annuncio in apertura, magari per me lo zoom in regia, non lo so, tanto per dire se non si capisce, ecco qua, quindi queste sono manifesto 6x3 che sono in giro, vi ringrazio anche il nostro Andrea Licitra che collabora con noi in questo appuntamento importante, praticamente dell'Ibrea compie l'anno prossimo, in data esatta il 16 di marzo, 50 anni, 50 anni, chissà quante persone che mi vedono non erano ancora nate 50 anni fa, noi abbiamo fatto la storia della televisione, ma davvero perché siamo citati nella sentenza 202 della Corte Costituzionale e quindi abbiamo pensato di celebrare nel migliore dei modi questa ricorrenza, che attenzione, penso che siamo i primi, ci sono state altre realtà, c'era stato Telebiella, tra l'altro io ho lavorato parecchi mesi a Telebiella, nove mesi a Telebiella, quasi un anno, ma era via cavo, non è che cambiava molto nel modo di fare televisione, ma quella via etere è stato il momento in cui si è spezzato il monopolio della RAI, quindi noi a partire dal 7 di dicembre fino al 16 di marzo realizzeremo una serie di appuntamenti culturali dedicati all'informazione, ma anche di spettacolo e quindi cercheremo di avere vicino noi quelli che hanno fatto con noi questa storia, ma che sono stati anche importanti per la città di Ragusa, quindi senza dubbio sarà un bel momento. Poi il futuro, la storia è un viaggio nel passato, lo slogan è un viaggio nel passato, ma radicati nel futuro, cosa faremo nel futuro? È un po' come il film, ritorno al futuro, non lo so, perché la televisione cambia, ma la gente ama sempre stare bello seduto e guardarsi la televisione, può essere che ci saremo ancora, magari in qualche altro modo. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, chiudo con Gianni Papa, che parla di sport, con il nuovo Ragusa Calcio, ci sarà una bella chiacchierata e poi ci sono le rubriche che seguono il nostro telegiornale del 21. Grazie amici, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Con estremo piacere questa sera, è la prima volta che lo vedo e so della sua, ho visto la sua cortesia, è alto, è alto, per fortuna è seduto, quindi non si nota molto a differenza, mister Alessandro Erra, che è l'allenatore della Ragusa, reduce, e mi fa molto piacere che la prima occasione di vederci derivi sia immediatamente successiva a una vittoria. Buonasera a lei. Buonasera, l'allenatore è saleditano, quindi è una terra dove di calcio si respira, si mastica, si mangia a colazione, si mangia con i peperuoli abbottonati, eccetera, eccetera, è proprio... Allora mister, certo che questo successo non solo è benagurante, non solo ci voleva, ma fa davvero morale. Tutti i successi lo fanno, ma questo in particolare. Sì, fa morale, fa classifica, scaturisce dopo un momento a livello di risultati, poco positivo, ma la squadra si espressa sempre su buonissimi livelli, abbiamo già incontrato le due favorite per la vittoria finale, quindi Siracusa e Regina fuori casa, abbiamo sbagliato solo il primo tempo con il Siracusa, poi per il resto la squadra si espressa su buoni livelli, non ottenendo ciò che meritava, abbiamo giocato diverse partite senza attaccanti che ci hanno condizionato notevolmente. E quello qualcuno deve pure farle, In effetti poi domenica quando abbiamo recuperato poi tutti abbiamo avuto modo di vedere che in avanti c'è stata un maggiore efficace. Perfetto, dopo questo, quanto sono state fino alle partite? Cinque, sei? Cinque. Dopo cinque partite le hai incontrato già Regina, le mancano, penso che delle forti mancano ancora, a parte la capolista, credo anche la Vibonesse probabilmente, delle più forti. che impressione si è fatto di questa stagione in questa Serie D? Questa Serie D è molto competitiva, abbiamo visto lo scorso campionato dove dopo sette, otto partite è venuta meno in La Mezza Terme che tra l'altro è stata anche una mia ex squadra qualche anno fa. esatto. Vabbè, ma quello è stato credo uno scandalo. Poi le squadre calabrese sono andate subito in difficoltà e direi che è stato un campionato comunque un po' falsato visto che le squadre calabresi parecchie hanno giocato anche con la Juniors il giorno di ritorno. Quindi direi che è stato poi un testa a testa tra Trapani e Siracusa ha avuto la meglio poi il Trapani. Quest'anno invece è completamente diverso, anche le squadre che stanno nei bassi fondi danno battaglia. Diciamo che sembra parecchio più regolare. Assolutamente perché tutti quanti abbiamo visto anche Domenico Santag che momentaneamente era ultima ha fatto 4 con all'En noi eravamo diciamo penultimi anche se dopo 4 partite è relativo guardare con la classifica diciamo che c'è un sostanziale equilibrio e quindi le partite vanno giocate ci sono ovviamente 4-5 squadre che hanno delle rose importanti ma anche le altre si difende. Le partite vanno poi giocate sul campo. Lei ha una squadra che è nuovissima credo per l'80% tra l'altro con altre persone che sono entrate in corsa qualcuno è dato via ora è chiaro che diventa più difficile il lavoro di allenatore lavorare su un gruppo che uno conosce già da anni è più semplice eppure vedo che lo sta facendo bene e che soprattutto i giocatori rispondono quindi vuol dire che è un gruppo affiatato. Quello sì la società mi ha messo a disposizione un gruppo serio stiamo diventando squadra a mio avviso già da un po' di tempo perché c'è unità di intenti c'è voglia di migliorarsi ci sono quei 7-8 grandi giusti che fanno da guida i più giovani abbiamo tanti ragazzi che vengono dai settori giovanili di società importanti che vogliono crescere quindi la società ha fatto un ottimo lavoro in questo senso adesso sarà a me cercare di tirare fuori il meglio e toglierci delle soddisfazioni allora gli allenatori dei miei tempi lei è giovane sono un vecchio signore che ne ha viste di tutti i colori dicevano che ci voleva un grande portiere un grande allora ti diceva libero stopper e un grande centravanti lei è in questo calcio nuovo che onestamente col discorso della partenza dal basso spesse volte è anche noioso ma in questo calcio nuovo cosa crede invece che ci voglia a parte il grosso nome che va sempre bene in una squadra attuale partenza dal basso relativamente è importante non farsi col da soli perché ultimamente vediamo a papi la partenza dal basso no 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 io sono stato ex difensore quindi vengo da un calcio dove si diciamo si agiva prevalentemente il difensore faceva il difensore la regola è che la palla più lontano è è meglio giocare semplice adesso c'è questa diciamo moda nel voler proporre dal basso è importante che lo si faccia in sicurezza senza poi andare ad incappare in errori gratuiti e quindi poi il discorso della regola dell'austatura centrale poi di un certo livello magari prima si agiva in questo senso adesso con la regola degli under noi per sempre abbiamo un portiere 2006 molto valido il discorso nell'ander ragusa gioca con un portiere under esatto 2006 perfetto bellissimo beato lui un portiere under è sicuramente un esperimento un tentativo è un ragazzo al quale dare molta fiducia che la deve ritare ma sotto certi profili è chiaro che la vecchia volpe possa dare più garanzie lei invece ha un portiere che sembra darne parecchie quindi la squadra ne risente in positivo sempre guardi io sono arrivato l'anno scorso Andrea Grasso che è il portiere in questione aveva fatto già 7-8 partite faceva il secondo l'anno scorso esatto ha fatto le ultime 7-8 partite disimpegnandosi egregiamente si è partiti con la società con questo tipo di idea di dare fiducia a questo ragazzo però già questo ragazzo faceva notare che aveva delle sa lasciando intravedere delle cose positive abbiamo fiducia ritengo che Ragusa sia una piazza ideale per tanti ragazzi per essere da volano per poi lanciarsi nel calcio che conta e quindi abbiamo piena fiducia in lui in tutti i ragazzi che la società ci ha messo a disposizione questo non lo mettiamo ma come curiosità personale al di là di quello che possa essere il mercato successivo a dicembre al momento i lavori in corso si sono finiti o continuano? no no assolutamente noi siete arrivati come numero per ora sì 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 ma io sono molto contento della squadra no parlavo come persone se devono arrivare no no assolutamente no siamo completi con l'ultimo attaccante lo straniero esatto la settimana scorsa Johnson mi pare che ha segnato fatto già col domenica e quindi siamo contenti di quello che abbiamo a disposizione adesso c'è il lavoro che poi ci porterà a migliorare domenica dopo domenica e il tempo sarà giudice ma senza dubbio supremo con il terreno di gioco e poi il lavoro paga il lavoro paga e sicuramente questo fin dal primo giorno è stato un allenatore che si è caratterizzato a parte per la cortesia personale anche per il lavoro e per il medito e anche nonostante le difficoltà che sono derivate sicuramente il fondo campo non è il migliore del mondo è un dato oggettivo perché è ovvio che lo vediamo tutti e noi cerchiamo certe volte è meglio certe volte è peggio forse se piove un po' è meglio ma deve piovere appena un po' perché se piove più di un po' diventa complicato noi dobbiamo andare oltre non dobbiamo cercare di conferire alibi ai ragazzi loro lo sanno il contesto è questo e sappiamo che sono delle difficoltà dobbiamo andarci sopra perché la domenica comunque la partita vale tre punti e quindi bisogna andare al di là delle difficoltà abbiamo un terreno di gioco che non è dei migliori ma adesso la società che ce l'ha in gestione ha cercato di disseminarlo di metterlo a posto e speriamo quanto prima che possa essere in condizione migliore chiudiamo con l'ultimo argomento io mi batto da credo 40 anni per dire che se voi volete una squadra parlo ai tifosi dovete andare al campo perché mi pare normale perché purtroppo come dico sempre ho dovuto fare annate in cui eravamo compresi giornalisti e forse di polizia una trentina di persone deve fare l'articolo quindi ci doveva andare ora c'è una buona ripresa è cominciata qualche anno fa si sta riprendendo è chiaro che i risultati supportino questa difesa sono il sale della terra per questa ripresa ma mi sembra che anche proprio le caratteristiche della squadra aiutino i tifosi sono importanti vi seguono anche fuori domenica e enna non potranno venire perché non so come fosse 10 è uno stato che non ha settore ospite vabbè se non ricordo male devo avere visto tanti anni fa una partita enna ma evidentemente i tempi sono cambiati cosa vuole che dica dopo enna ci sarà una partita interna ovviamente contro chi il paterno contro il paterno quindi una partita con trascorsi simpatici e soprattutto trascorsi molto importanti addirittura per un anno ci giocò in ritorno un serie D per il Ragusa cosa vuole che dico gli auguri non si fanno sono sicuro che la prossima volta che avremo occasione gradita di rivederci parliamo di Ragusa sempre in crescita sempre migliore verso quelli che saranno i traguardi che questa stagione può consentire secondo me possono essere anche gran bei traguardi si è partiti un poco piano ma come i diesel dategli il tempo che si riscaldano e poi si può andare avanti complimenti e alla prossima grazie a voi buonasera